Nuovo blitz dei carabinieri a Scampia, al setaccio, abitazioni e condomini. Dopo i recenti sequestri nell'area nord del capoluogo partenopeo, i militari dell'arma hanno fatto scattare una vasta operazione nell'oasi del Buon Pastore, rione popolare che costeggia via Ghisleri. I carabinieri hanno eseguito perquisizioni in diversi appartamenti, il bottino in un'area comune nell'8R, 165 panetti di hashish per oltre 17 chili di droga e quattro pistole clandestine perfettamente funzionanti, tutte con matricola a brasa e proiettili nel serbatoio. Inoltre i militari hanno rinvenuto un mitragliatore calibro 223 e 50 cartucce di vario calibro. Le armi saranno sottoposte da certamenti dattiloscopici e balistici per verificare se siano state utilizzate o meno in azioni criminose.